Allora, intanto l'intervallo degli attestati di Nascere e Casaro, l'intervallo degli attestati di Giorgio, questi attestati sono due amici che sono stati davvero con l'intervallo. Adesso siamo ormai grandi per la scuicciare così si non si toglierà la parte dell'alberato. Vediamo cosa è successo. Allora, finiamo a cuori, finiamo a cuori... Ah, vieni a cuori! Basta un bel corpo... Vieni, 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 vieni... Ma non è che, se no, vieni, aspetta la presa da una gara! Cioè, vieni a cuori, non ci fai... Ma che ho messo, una pratia, adesso? Sono da cuori, il primo parte... Guardalo! Guarda lui che fa qua!